Il centrale Mazzoni si prepara a battere il calcio di punizione. E il portiere mette la barriera. Psss. Mazzoni parte. Eh, cos'è meglio sto a prendere il fiumicino, sai? Oia. Altro che NCC. Lo devi fare per forza, eh. Che mi metto a fare? Una cosa che ti piace. Papà dice che... Papà dice che... Io l'ho chiesto a te. Perché te voli ammazzà? Che ne so. E che sto stanco di me da come so. Il problema è che so io che so sbagliato. Che so sbagliato pure io. Felicità! Taratattà! Grazie a tutti.